L'ospedale di Sanfermo della Battaglia ha celebrato oggi la sua patrona, Sant'Anna. La ricorrenza, che cade il 26 luglio, si è dovuta svolgere in forma più ristretta, secondo le misure dettate dall'emergenza sanitaria. Alla messa, celebrata dai cappellani camigliani, padre Alessandro, padre Fabio e padre Crispino, sono seguiti i saluti della direzione rappresentata da Fabio Banfi. Dopo un breve omaggio musicale, a cura di Beatrice Arizza e Vittorio Benaglia, musicisti diplomati al Conservatorio di Como, è seguito il ringraziamento a tutti gli operatori della SS Tilariana per l'impegno di questi mesi. Una targa, che sarà poi apposta nella hall d'ingresso dell'ospedale, è stata consegnata al medico internista Antonella Stefini e all'infermiera del pronto soccorso Morena Montorfano, in rappresentanza di tutti coloro che sono stati in prima linea durante l'emergenza. Rigore, metodo, profonda empatia nei confronti dei pazienti e capacità di cura sono le qualità che esprimono la cifra del Sant'Anna, ha osservato Banfi. Lo sforzo corale è stato eccezionale, ma siamo riusciti a superare l'emergenza. La cerimonia si è conclusa con i ringraziamenti da parte delle autorità istituzionali presenti, il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, il sindaco di Como Mario Landriscina, il sindaco di San Fermo Pierluigi Mascetti, il prefetto Ignazio Coccia e il professor Giulio Carcano dell'Università dell'Insubria. A questi mesi accompagnati da dolore, lutto e tristezza, guardiamo oggi al futuro insieme a Sant'Anna con la speranza della vita, ha dichiarato Fermi, al ringraziamento a socio orgoglio per la testimonianza di competenza, sacrificio, professionalità e onore che avete espresso. Vi porto la gratitudine della città, ha commentato Landriscina, e vorrei sottolineare l'importanza del senso del dovere che quotidianamente è stato e viene espresso da ogni singolo lavoratore, una straordinaria quotidianità silenziosa e insieme del resto che si può vincere.